Musica Buongiorno, ben ritrovati, buon sabato mattina a tutti voi Consetto appuntamento con i giornali, con la rassegna stampa alle 7.30 Siamo in diretta come ogni mattina e sono pronti Sono pronti sul nostro touchscreen, Corriere Adriatico e il resto del Carlino Però partiamo dalle previsioni del tempo e il santo del giorno Così introduciamo subito l'almanaco di oggi Allora, vediamolo Il santo del giorno, oggi è sabato 27 agosto San Cesario di Arles Il sole è sorto alle 6.26 e tramonterà alle 19.53 Giornate che si vanno man mano accorciando Previsioni del tempo scarne nelle didascalie, come vediamo Veramente c'è poco da dire C'è una regione a tutto sole, dalla costa ai rilievi appenninici Quindi cielo sereno, nessuna precipitazione Temperature stazionarie, mare un poco mosso E venti di brezza, quindi insomma il meglio che si può vedere Che si può vedere e anche per domani, come vedete La situazione è a carta carbone praticamente Lunedì ugualmente, insomma nella nostra zona c'è pieno sole Soltanto nelle basse marche e sui rilievi Ci sarà qualche fenomeno nuvoloso Però insomma nessuna precipitazione e temperature in leggero, in lieve aumento Insomma questo è lo scenario di questo, dal punto di vista meteorologico Di questo fine settimana e quindi insomma un ultimo weekend di agosto All'insegna del bel tempo per godersi ancora un po' di mare Allora iniziamo a vedere i giornali Vi faccio vedere le due aperture, le due aperture di Corriere Adriatico E il resto del Calino che sono due aperture molto differenti Guardiamo quella del Corriere Adriatico Eccola qua, parla appunto della terra che trema ancora Nelle Marche ci sono 47 morti, non ci sono più dispersi Oggi ci saranno i funerali ad Ascoli E poi in basso nei richiami della pagina Insomma si parla di prevenzione appunto dal punto di vista dei fenomeni sismici Poi gli eroi della polvere che continuano a scavare E anche l'elenco dei danni che si sono verificati in questi giorni per questo sisma E poi altre notizie che poi vedremo all'interno E vi faccio vedere l'apertura invece del resto del Calino Completamente diversa Si parla appunto Funerali di Stato divisi tra gioia e dolore Insomma il dolore di chi ci ha Insomma il dolore di chi ha perso persone Cose, affetti E il sollievo Insomma l'aspetto L'altra faccia della medaglia Il sollievo di chi invece l'ha scampata Come alcuni ragazzi che erano in una località Insomma ragazzini pesaresi in vacanza a pochi chilometri dall'epicentro E sono tutti salvi Poi altre notizie di cronaca Allora rimaniamo, queste le due aperture I due tagli differenti scelti dai quotidiani Per introdurre insomma le pagine della cronaca locale Allora dopo l'apocalisse siamo nelle pagine del resto del Carlino Silenzio che raggela il sangue, la croce rossa sui luoghi della morte Da Urbino quattro volontari Tra i primi a derivare a Pescara del Tronto E poi orgoglio Cagliese Dove c'è insomma da Cagli Quindi insomma tutta la provincia Le unità cinofile Ai conduttori Insomma tutti quanti I protagonisti di queste ore Dopo vedremo anche Nelle pagine del Corriere Adriatico Ci sono tante testimonianze Apriamo la pagina di Fano del resto del Carlino Che punta su insomma una botta e risposta Tra l'assessore Bagnesi e l'opposizione Che dice nessun taglio per ora alle famiglie dei disabili L'assessore fa appunto il punto con cifre alla mano Su quella che è il welfare nella nostra città Anche insomma un altro assessore Cristian Fanesi Replica ai 5 Stelle sul piano insomma di emergenza Se c'è come c'è e insomma come è fatto E quali sono gli aspetti di questo piano di emergenza E dice speccono sui drammi altrui Il piano di emergenza a Fano c'è È stato approvato nel 2008 Sono state individuate tutte le aree di raggruppamento Così si chiamano, è un piano ben delineato Ben preciso In linea con gli standard del momento Se volete andate sul sito del comune C'è un bottone, lo cliccate Lì c'è tutta la mappa C'è cosa fare, cosa non fare È una pagina che è stata anche aggiornata di recente Quindi potete consultarlo il piano di emergenza Poi noi qui a Fano abbiamo uno dei gruppi di protezione civile Il Civic Club Mattei Che nelle Marche sicuramente è uno dei più qualificati Ed è anche lì in quelle zone in queste ore Si parla anche di referendum, di voto Siamo a Marotta C'è stato un risponso Che dice appunto che ha dato ragione al comune di Fano Perché sono stati chiamati al voto Solo una parte dei residenti E non tutti i cittadini dei due comuni interessati Ecco perché la sentenza è considerata illegittima E quindi insomma vedremo nei prossimi mesi Come finirà questo aspetto Marotta Marotta è anche solidale E quindi insomma non solo sulle carte bollate La Croce Rossa Soccorsi ecco come aiuteremo i terremotati Il contributo Acqua, coperte nuove Una raccolta fondi Per un progetto preciso Eccoli vedete qui i volontari Nella sede di Marotta della Croce Rossa Come intendono affrontare questa emergenza Allora la pagina di apertura del Corriere Adriatico Ve l'ho fatta vedere Ci sono ampie pagine dedicate Come sempre avviene Dopo i primi giorni Dove si descrive che cosa è successo Il perché E cosa si deve fare Ora si intrecciano le storie Le storie sulle pagine dei giornali Di chi è andato lì Di chi è ritornato Di chi ce l'ha fatta Quindi insomma si parla di tante cose E qui ho scelto due pagine Ci sono tantissime pagine Che raccontano appunto Delle persone che sono lì E delle loro esperienze personali Un ex dirigente dell'ARPAM C'è un autista soccorritore del 118 Altre testimonianze Altre pagine sono queste Appunto lavorare per gli altri C'è un ex farmacista Un maresciallo dei carabinieri Insomma tanti aspetti Tante storie che si intrecciano Qui ci sono tutte le loro esperienze Esperienze anche drammatiche Come quella di questo volontario Della protezione civile Si chiama Marco Motta È un addistratore cinofilo Di 30 anni È andato lì col suo cane Spike Ve l'abbiamo detto anche noi Nelle passate edizioni Di Occhio alla Notizia Qui c'è la sua storia Ci sono le ore drammatiche E quello che ha vissuto Insomma in questo strazio Per i tanti giovani morti Che sono rimasti lì E poi si mobilita anche Il mondo della scuola Non solo cibo Ma anche quaderni E giochi per i bambini Perché anche questo È un aspetto È un aspetto che riguarda I più piccoli Che sono lì Che vivono già di per sé È una situazione Una condizione non ideale Per loro Insomma Quindi anche i giochi Fanno parte Di ciò che loro hanno bisogno Andiamo a Ferminiano Pietro Zuccheri Detto È il matriciano Come si intrecciano Le storie di chi È andato lì Con quelle di chi Invece Da qua Dai luoghi Insomma Dove abita e lavora Vuole fare qualcosa Vuole coinvolgere L'intera Ferminiano Si chiama il matriciano Quindi suppongo Che la sua specialità Gastronomica Sia la matriciana Mette a disposizione Le sue abilità culinarie Per una serata Di solidarietà Legato appunto Alla sua terra D'origine Che l'aiuterà In questo modo E poi Un dono Un euro Per ogni pizza Margherita Ordinata Vedete Sono tante Le sfaccettature E anche a Pesaro Come è avvenuto A Fano È andato in tilt Il centro di raccolta Trabocca Alla solidarietà Al vecchio Palace Quindi ci servono Altri spazi Perché è stato Completamente Riempito Da ogni genere Di Ogni genere Di 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 Tutto è stato portato e anche Urbino E anche Urbino ha sospeso La raccolta quindi veramente il grande e il grande cuore di tutti quanti ha fatto sì che in poche ore Tutto quello che era possibile raccogliere è stato Raccolto e si è parlato del del sisma anche alla festa Dell'unità di Pesaro e Ricci insomma che Che è in odor di carica per Lanci dice la risposta è stata eccezionale Ricci intervistato dal giornalista Paolo Liguori Anche di lavoro si parla delle pagine del Corriere Adriaco Lavoro nell'ambito della sanità, l'area vasta, i compensi arretrati ai dipendenti non sono stati versati 1.700 dipendenti hanno ancora la retribuzione sulla produttività del 2005 in arretrato da avere Quindi CGL, Cisle, Will sono pronte allo sciopero Sport, una pagina di sport piacevole per i più piccoli che vogliono iniziare a giocare a basket Come non potrei non essere d'accordo avendoci giocato tanti anni E allora il basket, piccoli cestisti crescono, basket city parte dai bise Corsi a iniziare dai due anni e senza provini Insomma porte aperte, si va lì, si prende un pallone, si inizia a palleggiare e via E vediamo se c'è qualche piccolo talento in erba Fano, la pagina di Fano, vediamo quelle che riguardano la nostra vallata Fano contraddistinta da tanti episodi di cronaca Ieri uno su tutti nella notte fuoco al mercatino Fano Mercatino dell'usato, tra oggetti nuovi e usati Le fiamme provocate da un cortocircuito elettrico Ancora rimaniamo nella pagina di Fano perché si parla di un aspetto che riguarda l'anima In questi giorni sicuramente di anime e di anima se ne è parlato molto Perché insomma il sisma oltre che a scuotere le coscienze Scuote anche le anime delle persone e l'animo Pacifici mette in piedi uno spettacolo con la regia di Marco Florio Ispirato da uno scritto di Lodovichetti Andrà in scena a San Francesco e appunto si parla di persone e di luoghi Con l'anima e tra l'altro l'incasso di questo spettacolo Insomma ce l'hanno confermato ieri in conferenza stampa L'incasso di questo spettacolo che si terrà il 30 e il 31 di agosto Sarà interamente devoluto in beneficenza naturalmente per il terremoto Andiamo nella pagina che parla della Val Cesano Perché un altro spettolo l'abbiamo visto anche nel resto del Carlino E' quello del referendum di Marotta A Fano potrebbero tornare in 2500 Che sono quella parte di cittadini che sono passati sotto il comune di Mondolfo Però l'ultima parola spetta alla Corte Costituzionale Il sindaco Seri è soddisfatto La sentenza del Consiglio di Stato è chiara Ma non è una guerra tra cittadini E' solo una questione di equità Insomma le cose vanno fatte con il consenso di tutti Perché solo una parte dei seggi dei due comuni Era stata chiamata a esprimersi dal punto di vista del referendum Invece dovevano essere presi in considerazione tutti i cittadini delle due città Insomma questa è in sostanza la motivazione della sentenza E si parla di alimentazione Fano nella Val Cesano Siamo a San Lorenzo in campo Farina di farro e cipolla di suasa E' pronta la focaccia laurentina Oggi al via in piazza Questa bella iniziativa della proloco di San Lorenzo in campo Chiudiamo con le due pagine dedicate a Senigallia Si parla di complanare E' stata inaugurata finalmente la complanare Che taglia fuori, vedete nella cartina, tutta la città di Senigallia Con il dimezzamento dei tempi di percorrenza Perché dalla Cesanella al Cernin Potete vedere insomma Qui sulla statale ci si impiegava per fare il tratto sud 12 minuti e 45 Con la complanare 8 minuti e 10 Il pezzo nord 18 e 36 20 minuti quasi Veramente per attraversare qualche chilometro E adesso insomma 8 minuti Vedete quindi questo è il vantaggio Tagliando fuori, come vedete nel percorso Tutto il centro di Senigallia Ultima pagina che vi faccio vedere Si parla della fiera che si terrà fra poco a Senigallia La fiera di Sant'Agostino Con orari e naturalmente luoghi Anche dove prendere i bus Navetta, tradizione e innovazione Ecco la fiera di Sant'Agostino Insieme a bancarelle di prodotti biologici E mercatino dei giovani artigiani Bene, questa era l'ultima pagina che vi proponevo Grazie per essere stati in nostra compagnia Per aver seguito la nostra rassegna stampa E aver aperto la giornata con noi Ma un saluto va anche a quelli che ci seguono Nelle repliche nel corso della mattinata Occhio ai giornali torna lunedì mattina puntualmente alle 7.30 Grazie, buona giornata e buon fine settimana a tutti voi Grazie a tutti Grazie a tutti.